il lupo mannaro c'era una volta in un piccolo villaggio in un regno lontano un giovane chiamato lucas lucas perché non le dici cosa provi e se le dici di no non so se il mio cuore sarà in grado di sopportare il dolore e se qualcun altro arriva da lei prima di te no hai ragione amico mio dovrei dirle come mi sento prima che sia troppo tardi e così prendendo tutto il suo coraggio lucas si avvicinò a suzanne per parlarle dei suoi sentimenti suzanne si buona giornata suzanne anche a te lucas grazie aspetta sai il mio nome ma certo andavamo alla stessa scuola ricordi e l'insegnante d'inglese ha trovato una certa lettera d'amore che è scritta ad una certa persona oh quella sì quella era di marcus l'aveva scritta lui davvero credo sia meglio che parli con marcus allora in realtà non è stato marcus sono stato io ti amo aspetta non l'ho detto davvero l'hai detto e come io 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 ok ciao mi chiamo suzanne non su su suzanne rilassati sciocco sono venuta qui per dirti che aspettavo che tu mi parlassi dei tuoi sentimenti dai tempi del liceo e quando finalmente l'hai fatto sei scappato via io anche io ti amo cosa i tuoi genitori sentiranno incontriamoci domani al lago ciao sto sognando spero di no ci vediamo domani ci vediamo il pomeriggio successivo lucas e susanne si incontrarono in riva al lago e la giovane coppia disegnò castelli d'amore in aria non riesco ancora a credere che tu sia mia promettimi che non mi lascerai mai mai il nostro amore è mortale lo è passarono i mesi da quel giorno e susanne e lucas erano innamorati ora più che mai bene ora vai papà arriverà da un momento all'altro vederti qui sul mio balcone non creerà una grande prima impressione lo sai non posso sopportare questa distanza non è necessario domani verrai a parlare con lui ah domani non posso aspettare ti amo così tanto anch'io ti amo ora vai ciao ciao sciocco nel frattempo nebula una giovane strega delle montagne era entrata nel villaggio una settimana prima per comprare delle erbe stava vagando nel mercato quando i suoi occhi caddero su lucas se ne innamorò all'istante accidenti che bel giovanotto ma con grande sorpresa di nebula vide che lucas abbracciava un'altra donna susanne e si infuriò da allora iniziò a seguire lucas furtivamente come un'ombra finché ciao lucas io sono nebula e vengo da mont charles ciao cosa posso fare per e se ti dicessi che ti amo scusa mi ami anche tu stai bene non ti conosco inoltre amo qualcun altro allora se non posso avverti io caro falegname nessuno potrà farlo cosa la prossima volta che andrà nella foresta a cercare la legna al primo colpo d'ascia ti trasformerà in un lupo e dicendo questo nebula si voltò e se ne andò lucas rese dentro di sé e tornò a casa quel pomeriggio incurante delle minacce della strega lucas mise i suoi buoi sul carro e si diresse verso la foresta ma non appena colpì un albo però l'ascia cadde a terra sorpresa e terrorizzato si guardò alle mani erano diventate zampe di lupo quasi impazzito dalla paura e dall'angoscia iniziò a correre per la foresta guardò in una forza d'acqua e vide che si era trasformato in un lupo si affrettò con dolore e terrore corse fuori dal bosco la gente cominciò a urlare a gridare a correre con orrore alla vista dell'enorme lupo ai margini del bosco e vedendogli andare di qua e di là la bestia si rese conto del panico che aveva portato alla gente e mettendo un forte ululato il lupo mannaro si girò e scomparve nel bosco il sole calò e poi sorse di nuovo era un nuovo giorno ma per il lupo mannaro una vita terribile era appena iniziata al villaggio susanne stava aspettando con il fiato sospeso che il suo lucas tornasse a casa per chiederle la mano ma lui non arrivò per ragioni che solo lui conosceva perdona mio amore mio non posso venire da te in questo stato perché ti spaventerei mandro a cercare la strega così che lei possa annullare la maledizione io possa tornare presto da te e così lucas che era ora un lupo mannaro iniziò il suo viaggio verso il monte charles attraversò molti fiumi e camminò in molte foreste assicurandosi di rimanere fuori dalla vista degli umani e ogni volta che incontrava uno specchio d'acqua catturava i pesci a mani nude e li mangiava fino a che non era pieno andò avanti e avanti e un giorno il suo viaggio lo portò in un prato dove vede un branco di iene circondare un ragazzino con la saliva che colava dalle loro bocche mentre si avvicinavano al bambino qualcuno per favore mi aiuti e con un forte ruggito lucas saltò nel mezzo le iene vedendo l'enorme bestia corsero in qua e in là prima di scopparire dietro gli alberi per favore per favore non uccidermi lucas guardò il bambino spaventato e poi girando la testa verso il sentiero continuò il suo viaggio in quel momento sentì una voce la voce di una donna lucas si voltò e vide nebula la strega correre verso il bambino e abbracciarlo jack o jack perché hai lasciato la mia mano stai bene quello strano lupo mi ha aiutato nebula guardò il lupo e subito capì chi fosse lucas lucas su lui chinò la testa una lacrima gli sfuggì dagli occhi perché si sentiva così impotente da non poter nemmeno parlare mi dispiace tanto lucas la mia rabbia ha avuto la meglio su di me hai salvato la vita di mio fratello te ne saremo grati per sempre e dicendo questo la strega accarezzò delicatamente la testa di lucas che subito si trasformò nella sua forma umana le parole non riuscirono ad uscire dalla sua bocca quando vide le sue mani e toccò il suo viso la sua rabbia verso la strega svanì immediatamente lucas mi dispiace ho imparato che il vero amore non consiste sempre nel conquistare la persona che ami a volte si tratta di vedere quella persona felice anche senza di te beh lasciamo che il passato sia passato devo andare subito dal mio amore lucas aspetta la maledizione non può essere annullata definitivamente cosa vuoi dire ora sei umano ma ogni volta che ti arrabbierai il lupo dentro di te risorgerà mi dispiace ma non c'è modo di annullare l'intera maledizione sto per incontrare il mio amore il mio cuore non ha posto per la rabbia grazie e a dio hai fatto un lungo viaggio lucas ecco questo incantesimo ti porterà subito al tuo villaggio e con una scintilla lucas scomparve dal prato e apparve nel suo villaggio ora dal mio amore si recò subito a casa di susanne dove vide molte persone riunite come se ci fosse una festa che succede perché susanne e marcus ci sono appena sposati aspetta non sei ma lucas non aspettò si precipitò subito dentro e vide susanne e marcus nei loro abiti da cerimonia circondati dalle loro famiglie susanne lucas ti sei sposata con marcus tu tu hai il coraggio di tornare da me dopo tre anni e chiedermi se mi sono sposata ti ho aspettato abbastanza lucas ma ma lucas basta è il giorno del nostro matrimonio non rovinarlo lucas guardò marcus e le vene sulla sua fronte cominciarono a gonfiarsi ecco un forte rugito si trasformò in un lupo mannaro il panico irruppe nella casa e la gente corse spaventata mentre lucas si avvicinava a marcus mostrando i suoi lunghi denti canini e gli artigli e proprio quando lucas stava per balzare su marcus fermo cosa ti è successo in cosa ti sei trasformato per favore ora è mio marito se devi fare del male a qualcuno fallo a me susanne piangeva con le mani giunte supplicando vedendo le lacrime nei suoi occhi il lupo dentro lucas cominciò a calmarsi e lui tornò ad essere un umano ci siamo promessi amore eterno non potevi aspettarmi pensavamo che tu fossi morto lucas no no il tuo amore non era immortale ma il mio lo era lo è ancora buona vita susanne ti amerò per sempre e dicendo questo lucas si voltò e ringhiò ferocemente trasformandosi in un lupo mannaro poi con passi terribili corse fuori dalla casa e verso il bosco non fu mai più visto ma la leggenda dice che il lupo mannaro è ancora vivo e che vive tra di noi e ogni volta che i pensieri del suo amore lo turbano si allontana dagli umani e si rifugia nei boschi dove ulola per scacciare via il suo dolore perché non tutte le storie d'amore hanno un lieto fine alcune diventano solo leggende grazie a tutti grazie a tutti